M.D. Bank's Day M.D., ovvero una giornata di occupazione delle borse e delle piazze per indicare chi sono i reali responsabili della crisi che stiamo vivendo e del fatto che noi il loro debito non lo vogliamo pagare e non vogliamo pagare le colpe del neoliberismo. Ci saranno mobilitazioni a New York, a Tokyo, in Spagna e in Grecia e noi sicuramente non vogliamo essere da me. Ci sono date che in tutta Europa e in tutto il mondo resteranno, quindi noi ci prepariamo a costruirle, a fare in modo che ci sia una più ampia partecipazione di tutti coloro che questa crisi non la vogliono più pagare.